mi affaccio e dentro in una delle poche case costruite mi accolgono con semplice ospitalità intorno a una stufa accesa pentolone annesso sopra intorno poche cose a parte la stufa qualche mobile uno a dire la verità qualcosa di colorato appeso alle pareti qualche ricordo un'immagine una foto richiami della vita di altrove di quella vita che scorre altrove non immutata nel tempo come qui a metà tra la terra il cielo a fianco di un monastero birra fresca non di frigo mongolia grazie ma devo mangiare tutta più che il dolor poter il digiuno